ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come manuel bortuzzo di nuovo innamorato dopo la principessa ecco la regina del suo cuore la nuova fiamma è più grande di lui ed è già mamma i fan della coppia formata da manuel bortuzzo e lulu selassie dovranno mettersi l'animo in pace la storia tra i due ragazzi è proprio finita chi ha seguito il grande fratello vip sei sa di cosa stiamo parlando i due ragazzi si sono ritrovati a condividere lo stesso tetto e tra alti e bassi hanno portato avanti una relazione conquistando numerosi fan ma poi ad aprile 2022 improvvisamente la notizia della rottura che ha mandato nella disperazione i sostenitori della coppia che proprio non riescono a rassegnarsi tanto che ancora questa estate girava voce che la storia non si fosse davvero conclusa che fosse solo una manovra diversiva per non dare nell'occhio poiché la relazione è stata osteggiata dal bortuzzo senior e invece ecco che per fugare ogni dubbio il nuotatore paraolimpico ha pubblicato sul suo profilo delle foto ritenute inequivocabili con una donna nuovo amore per manuel bortuzzo chi è la fortunata manuel bortuzzo nuovo amore dopo lulu selassie la storia d'amore tra manuel bortuzzo e lulu selassie ha appassionato molti telespettatori che sono poi diventati sostenitori della coppia rimanendo molto delusi quando questa si è sciolta le speranze però sono state alimentate dai rumor che hanno continuato a circolare fino a qualche mese fa quando alessandro rosica e giuseppe scuccimari sostenevano non si sono mai lasciati si vedono da più di un anno purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore gente piena di pregiudizi e violenta se li vedrete insieme non lo so di certo loro si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti ogni volta erano lacrine e abbracci abbiamo le prove provasse qualcuno a smentire queste prove non le abbiamo mai viste in compenso però abbiamo visto le foto del nuovo amore di manuel che evidentemente ha voltato pagina a sorpresa negli ultimi giorni sul profilo instagram di manuel bortuzzo è spuntata una storia condivisa di una ragazza che mostra due mani intrecciate e la dedica il mio amore una delle mani è dell'ex gf no l'altra è di ilenia caccavale la ragazza misteriosa non si sa molto di lei se non che ha 31 anni quindi 7 più del ragazzo che è già mamma di due figli e che è proprietaria di un ristorante di roma città dove vive adesso manuel sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più ciao 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 ciao